benvenuti al quiz della bontà la signora melanzana ora deve scegliere la categoria scelgo il domandone se si vogliono frutta e ortaggi certificati del territorio e di stagione cosa si chiede al proprio negoziante di fiducia? beh si deve chiedere un miracolo si deve chiedere ApoVF giusto signora melanzana risposta esatta ApoVF vocati alla bontà ortofrutta ApoVF chiedila al tuo negozio di fiducia